E pronti ad andare nel ricordo di Bianca, Berca, la signora di Volvedo. Partiti! Sgabbia in ritardo, Santa Grazia. E in vantaggio Miss Manduro davanti a Sandy Welch, March Madness, Dark Ray, She's Great, Parry to Packing e Julie My Princess. All'inizio della curva conduce Miss Manduro davanti a Sandy Welch, March Madness, Parry to Packing, She's Great, Dark Ray e Julie My Princess. Poco prima dell'ingresso in ritardo, in leggero vantaggio Miss Manduro davanti a March Madness, Sandy Welch e Parry to Packing. I cavalli entrano in ritardo. con Miss Manduro in leggero vantaggio davanti a March Madness, Sandy Welch, Parry to Packing, She's His Great, Dark Ray e Julie My Princess. e sempre in leggero vantaggio a centropista Miss Manduro davanti a March Madness, Sandy Welch, Parry to Packing, Dark Ray e Julie My Princess. Passa a Parry to Packing davanti a Dark Ray, March Madness, Sandy Welch e Miss Manduro in vantaggio, Parry to Packing davanti a Dark Ray, March Madness e Sandy Welch. È facile Parry to Packing davanti a Dark Ray e March Madness. Missione Compiuta! Finale to Packing Grazie.